Ha destato scalpore il crollo dei contenitori registrato nel porto di Civitavecchia nel primo trimestre 2023, con oltre un quarto dei Teo imbarcati e sbarcati nello stesso periodo dello scorso anno sono andati in fumo. C'è da dire che, tranne qualche eccezione, il settore è in perdita anche nelle altre realtà portuali, perlomeno in quelle che hanno finora pubblicato i dati del primo trimestre. Nessuna però perde come Civitavecchia, che oltretutto partiva già da una posizione bassissima nella classifica nazionale. Venezia registra una diminuzione dell'1,2%, Ravenna del 3% e l'accoppiata Napoli-Salerno del 6,2%. Civitavecchia supera il 26%. Peraltro nel calo pesa probabilmente anche l'uscita di scena della Rifline, la compagnia delle piccoli navi porta container che ha deciso di non servirsi più del terminal gestito dall'RTC alla banchina 25 e che lo scorso anno aveva cominciato a scalare il porto locale assicurando collegamenti con le Americhe e con l'Asia. L'ennesimo dato negativo riguardante i contenitori dovrebbe indurre ad una seria riflessione sulle cause del mancato decollo di un settore che altrove garantisce importanti introiti e notevoli ricadute occupazionali e che assicura notevoli entrate anche a Stato e Regione attraverso lo sdoganamento. È paradossale, come più volte sottolineato, che avendo a due passi una metropoli come Roma, servita ogni anno da 2 milioni di TEU, il porto più vicino riesca a movimentarne solo un ventesimo. Praticamente oltre il 90% della merce destinata alla capitale viene sbarcata nei porti di Livorno, Napoli e Salerno, ben più lontane, ma che evidentemente hanno un costo inferiore. Un costo economico inferiore che però contrasta in modo palese con quello ambientale, visto che il trasporto effettuato su tratte di centinaia di chilometri maggiori rispetto a quella tra Civitavecchia e Roma è ovviamente più impattante sul piano dell'inquinamento. Peraltro, a rendere maggiormente paradossale la situazione, è arrivato nei giorni scorsi il report della Banca Mondiale sulle performance dei terminal container di tutto il mondo. I porti italiani ne escono tutti male, tranne Savonavado, perché collocati ben oltre il centesimo posto della graduatoria. Civitavecchia occupa il 185esimo posto, comunque molto meglio piazzata, di scali come Venezia, Napoli, Livorno, Genova, La Spezia e Trieste, che normalmente movimentano almeno il triplo dei contenitori, visti al terminal locale. Ma il dato diventa ancora più paradossale, visto nell'ottica del ranking elaborato su base geografica, che mostra meglio la posizione occupata da uno scalo in relazione ai suoi vicini e che vede Civitavecchia al sesto posto su scala nazionale. E la domanda torna spontanea. Perché un porto anche a livello internazionale mostra particolari potenzialità sul mercato dei container? Continua ad essere mortificato da numeri assolutamente risibili? Non siamo ovviamente noi a dover dare le risposte. Negli ultimi 15 anni, senza ottenere naturalmente risposte, abbiamo più volte posto il problema di una concessione che non garantisce i livelli di traffico attesi. Chissà che stavolta, di fronte ad una tale debacle, non si possa avvertire qualche vagito.